Ti avverto? Nick Fury ti chiamerà. Nick Fury chiamerà me? Sì. Perché? Perché? Perché forse ha un lavoretto da eroe da fare. Tu sei un supereroe, lui chiama i supereroi. Beh, se fosse davvero così importante, chiamerebbe qualcun altro, non me. A quanto pare, no? Visto? Sconosciuto. È lui. Ma io non voglio parlare con Nick Fury. Perché? Perché se non ci parli tu devo parlarci io e io non voglio parlarci. E tu perché non vuoi parlarci? Perché ho paura, rispondi e basta. Hai fatto partire la segreteria? Sì. Con lui non si può fare questo. Sentito, mi vogliono. Devo andare, devo andare. Devi parlarci. Lo chiamerò, te lo prometto, lo chiamerò. Lo farò. Nessuno evita Nick Fury.